Perché la nostra scuola promuove l'inclusione con l'idea che conoscere abbatte le differenze e aggrega in un linguaggio poi che è quello universale dello sport. Noi lavoriamo già ormai, questi sono tre anni che lavoriamo tantissimo sull'inclusione, proprio perché riteniamo che conoscere sia la chiave di volta. Nel momento in cui conosciamo la diversità riusciamo a farla entrare nella nostra vita e renderla così una compagna di vita. Devo dire che la nostra scuola che accoglie veramente tanti ragazzi speciali è diventata essa stessa speciale, perché sono loro la ricchezza della nostra scuola. Sono loro che accompagnano gli altri compagni, permettetemi il gioco di parole, per un processo di inclusione e di cittadinanza attiva. È vero, la forza di volontà, il desiderio, la magia, la magia poi del linguaggio universale che è proprio lo sport, sono per i nostri ragazzi un punto di forza. E sono degli insegnamenti, perché guardate, noi possiamo fare storia, geografia, matematica, ma le testimonianze di vita di questi atleti sono preziose per i nostri ragazzi, perché ripeto, li accompagnano alla crescita, in una sana crescita.